La procura generale di Milano ha chiesto la revoca dell'affidamento terapeutico concesso a Fabrizio Corona lo scorso 21 febbraio. Perché? Perché Fabrizio Corona ha infranto tutte le regole che c'erano affinché questo affidamento terapeutico, che era una via sostitutiva al carcere, potesse essere attuato. Innanzitutto non doveva stare sui social, invece lui appena uscito di carcere è stato postato un video che appunto lo ritraeva insieme all'allora fidanzata Silvia Provvedi mentre uscivano. In più è andato a fare diverse ospitate televisive con annesse litigate barra risse, diciamo così, tant'è che è stata mostrata dalla procura anche l'ospitata fatta al GF e la discussione con Ilari Blasi. Insomma Fabrizio Corona ha infranto tutta una serie di norme che gli consentivano l'affidamento terapeutico. Questa mattina a mattino 5 Fabrizio Corona ha parlato affacciato dal balcone della sua finestra. Ecco, vi facciamo vedere il video. Affacciato dal balcone della sua finestra, raggiunto appunto dagli inviati di mattino 5, come si vede sul tweet che è stato postato, gli è stato chiesto come stai Fabrizio, lui ha detto dai bene bene tutto sommato bene, gli è stato fatto notare che non ha parlato più di tanto in questo periodo e lui ha detto, dice beh forse è meglio che sto zitto, almeno per il momento. Questo è quanto, vedremo cosa accadrà a Fabrizio Corona, vedremo se tornerà in carcere oppure se invece troveranno un modo per farlo restare fuori e continuare con l'affidamento terapeutico.